buongiorno a tutti ragazzi buongiorno e buon sabato stamattina mi avete buttato giù dal letto perché giustamente ieri sera abbiamo promesso di regalare questa previsione allora specifichiamo che questa previsione che regale che regaliamo perché noi a differenza di altri quando una previsione non esce lo diciamo questa purtroppo non ha pagato ok lambo unico secco nei colpi stabiliti non ha pagato perciò noi la sostituiamo ok poi ovviamente se uscirà non sarà più un problema nostro perché noi la sostituiamo ciò questa previsione vedete va sostituita con quella che vi diamo perché dico a differenza di altri perché noi continuiamo a farci affari nostri e ci interessa lavorare così così come lavorano tanti provisionisti di cui cito il gianchilotto anche mimmo nazionale vi ricordate con mimmo cosa c'era stata poi bastata una chiamata si siamo chiariti e ognuno lavora fa il suo lavoro mentre ahimè purtroppo ci sono altri che non ce la fanno proprio e ogni loro video devono puntare il dito contro altre persone facendo false accuse dicendo che sono imbroglioni che lo fanno solo per accaparrare abbonamenti soltanto per far chiamare numeri a pagamenti non ce la fanno è più forte di loro e questo vi sta dimostrando che gente seria che fa il suo lavoro ripeto come gianchi il principe dell'otto mimmo nazionale lo stesso marcus non va a puntare sempre il dito su quello che fanno gli altri per alcuni personaggi gli altri sono tutti imbroglioni e lo forse perché vogliono il monopolio di youtube ma non funziona così la vita non è così comunque va benissimo è lo stesso ognuno può esprimere il suo proprio parere nel suo canale ciò questa noi la sostituiamo allora questa sarà la previsione la differenza che qui è un ambo secco unico imperiale avete preso il 12 71 in ambo secco quando ve l'abbiamo regalato ieri sera manca farla apposta su venezia 12 71 in estrazione mi pare precedente era uscito il 12 70 su palermo no ieri stesso 12 72 su palermo vabbè allora qui c'è la previsione ovviamente ambo secco unico imperiale lo presentano capitano il principe ci sarà cagliari un'altra ruota è la nazionale così evitiamo il primo numero è il 58 primo numero il 58 dove trovate il secondo numero allora intanto volevo dire non bazzardate più a chiamarmi alle 7 di mattina perché veramente vi rispondo e vi mando a quel paese perché alle 7 del mattino non si può chiamare già non mi dovete chiamare durante il giorno perché esiste whatsapp ma se mi chiamate alle 7 del mattino per avere la previsione io veramente vi mando a quel paese allora cagliari poi c'è un'altra ruota 58 e c'è un altro numero finito questo video la previsione completa la trovate nel canale del principe non iniziate a dirmi non lo trovo non lo so e dove e dove non è perché basta andare sulla mia pagina facebook io poi metterò il video suo perché mettendo il suo video non è che va cioè vanno a vedere solo le mie visualizzazioni ovviamente mandando il link del video del principe si va si va a guardare proprio il video suo ok perciò la seconda ruota e l'abbinamento del 58 lo trovate nel canale del principe canale youtube guardate vi avviso già non mandatemi nessun messaggio non lo trovo mandamelo tu perché non vi rispondo perché oggi è sabato e siamo incasinati e non posso non posso stare a rispondere anche su whatsapp per una previsione regalata fate lo sforzo andate su youtube tanto ne vedete tanti di canali perciò andate a cercare il canale del principe principe dell'otto e vi vedete il suo video con l'abbinamento ok allora detto ciò ieri 61 79 spaccato caso strano successe con milano napoli caso strano quando abbiamo fatto la seconda la terza la quarta vincita consecutiva nel milano napoli uscì una polemica sul milano napoli adesso puntualmente abbiamo fatto vincere col 61 79 sulla nazionale sta nascendo qualche polemica ma la differenza che questa volta le polemiche le forse lo subito perché non faccio più pubblicità a nessuno allora detto ciò formuletta del 90 bellissimo 90 preso ieri non ha regalato l'ambo assolutamente ma ha regalato il 90 su roma c'era la condizione perfetta il 90 quarta posizione complimenti a tutti quelli che l'hanno giocato la formuletta baricagliari stiamo giocando un solo ambo su baricagliari imparate a giocare un solo ambo ma imparate a giocare una tecnica e portarla avanti perché è finita l'era il paese delle meraviglie lice il paese non esiste più vince la colpo è diventato come fare un terno secco perciò portate avanti se avete pazienza se non avete pazienza lasciate perdere e poi abbiamo preparato questa mattina ve l'ho anticipato ieri allora qui dobbiamo cancellare allora qui devo cancellare guardate questa era la cosa di ieri allora qui cancelliamo ok ambo unico nel servizio telefonico 61 79 da quattro anni che pagava l'ambo secco e ieri l'ha pagato alla grande questa mattina trovate l'ambo unico che sono sei anni che paga l'ambo secco noi lambetto lo giochiamo uguale lo giochiamo uguale lambetto per coprirci ma puntate un attimino di più sul lambo secco e stesso discorso per qua osate mettete un eurino di più come vi avevo detto del lambo unico a bari che poi è uscito da nazionale ma nazionale ieri ho fatto anche un post adesso ho mandato l'email alle nostre i nostri operatori telefonici che praticamente devono dire sempre la nazionale perché bisogna accompagnarvi come i bambini a scuola mano nella mano ok perciò c'è la previsione dell'ambo unico ovviamente bari era quello di ieri non ho stampato perché non c'è avuto tempo lo trovate nel servizio telefonico un ambo secco che sei anni che paga l'ambo secco ok lo trovate questa mattina nel servizio telefonico vi costerà un euro e 50 perché se avete già chiamato il terno dei numeretti l'avete preso ieri non c'è bisogno che i nostri operatori ve lo diano nuovamente perciò è un ambo unico che va in sostituzione del 61 79 piccola precisazione piccola precisazione per chi avesse preso il servizio telefonico di settimana scorsa questa qui è in gioco non fatevela scappare non fatevela scappare perciò se avete preso la previsione col 69 70 non fatevela scappare ok vi ricordo che queste previsioni nel servizio telefonico sono tutte previsioni da tecniche nuove inedite dove non abbiamo mai 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 parlato e in effetti 61 79 è uscito a colpo ok la tecnica infallibile per chi ce l'ha mi ricordo che fa giocare due anni il primo è uscito a milano 6 e 72 il secondo gioca un altro ambo con il 6 occhio perché nell'estrazione del 12 settembre c'è questo 6 doppio 6 a genova milano ok cosa vuol dire che questo 6 dovrebbe ritornare dovrebbe ritornare ok occhio perciò chi ha la tecnica infallibile perché c'è un altro ambo secco da giocare proprio su milano in napoli col numeretto 6 ma occhio a questo terno dei numeretti se non l'avete preso ma molti di voi l'hanno preso ieri occhio perché anche questo lo trovate nel servizio telefonico ovviamente chi chiamerà oggi chi chiamerà avrà l'opportunità di andare a prendere questo ambo secco unico ok perciò vi aspetto vi ricordo che il servizio telefonico parte dalle 9 fino alle 19 di questa sera ragazzi bocca al lupo ci vediamo stasera per l'estrazione ciao